Sì, questo ti abbraccia, ti bacia... Ciao! 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 Così non ti riprendo, vero? Fatturo, eh? Sì, giustamente, un po' per uno! No, no, no! Ehi! Gnome, 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 gnome! Che delle iniziative! C'ha proprio una voglia di camminare e di uscire, incredibile! Ha proprio una voglia di camminare e di uscire, incredibile! Che! Di qua, di qua! Ha! Ha!